bella a tutti ragazzi sono da birko ben tornati su ghibli channel e su primitive society simulator allora ragazzi prossimiamo la nostra seriozza su questo gioco e come sapete ragazzi a me sta prendendo veramente veramente un sacco dunque allora a questo l'abbiamo inventato che dunque abbiamo inventato tutte queste cose quindi il carretto veramente fighissimo abbiamo l'armatura quella in pelle e finalmente le casette o perfetto quindi quest'oggi ragazzi quest'oggi ragazzi ci divertiamo allora innanzitutto io ho messo qua a fare dei semi perfetto gli diamo assolutamente la priorità di fare questi semi poi faccia beh qua credo che 50 secondo me bastino ma magari anche 30 dai facciamone 30 per adesso qua anche facciamone 30 e mettiamo maintain ok abbiamo anche lo stock quindi volendo possiamo anche dirgli di stoccare quella quantità precisa poi facciamo questo qua e ne mettiamo sempre 30 e diciamo mantieni e infine questi e facciamo sempre 30 e mantieni perfetto così qua intanto andranno a farmi semi dopodiché li potremo finalmente finalmente seminare appunto nel nostro primo terreno allora un'altra cosa che eventualmente vorrei fare no vabbè bellissimo bellissimo abbiamo i muri possiamo fargli le casette ragazzi possiamo fargli le casette non vedo l'ora adesso fra poco le faremo ma prima volevo capire un attimino di fare magari qua un'altra un'altra farm magari sempre messa così ad esempio però mi viene mi viene uguale questa farm no comunque me la da separata perfetto quindi farei qua il wild millet mentre invece in quell'altra ok ne facciamo sempre un'altra magari così non la faccio grandissima ragazzi per non dargli un eccessivo lavoro andiamo a fare il wild l'altro avevo messo il brown non mi ricordo no sempre wild wild no quindi qua mettiamo il brown perfetto ok così almeno abbiamo tutte le varie culture che quantomeno per il momento possiamo fare poi dunque io ho modo di fare credo qua madonna qua c'ho i vestiti strapieni qua c'ho i vestiti veramente strapieni aspetta che gli devo abbassare un po la quantità perché effettivamente gli avevo messo 20 è vero che li usiamo adesso ne ho 21 addirittura teniamo 15 perché sennò sono veramente un po troppi allora in teoria qua oh perfetto adesso abbiamo allora quella in pelle animal id quanto abbiamo 100 quindi hai voglia per cui gli metto l'armatura in pelle assolutamente sì e ne facciamo 15 e gli dico di mantenerla ok e la mettiamo assolutamente in cima dopodiché dopodiché basta perché per il resto abbiamo fatto tutto che magari gli togliamo queste qua in legno perché tanto a sto punto mi tengo quelle in pelle che sicuramente sicuramente sono migliori quindi quelle in legno poi al massimo le andremo a storare da qualche altra parte stavo pensando anche un'altra cosa che magari qua nel magazzino potrei fare degli appendi abiti per tenere gli abiti direttamente a però non me li fa fare qua a cavolo no qua non me li fa fare me li fa fare qua me li fa fare qua volendo va bene possiamo fare altri quattro e perché sennò non so dove cacchio mettere sti vestiti dovrei fare un coso solo per gli abiti effettivamente però ne dentro al magazzino non me li fa fare quindi dovrei fare diciamo una capanna senza l'area per il magazzino senza lo storage e andargli a mettere per l'appunto direttamente gli abiti magari lo facciamo così poi questi qua me li vado a tirar via dalle balle che tutti qua ammassati non mi piacciono un granché sinceramente però quello magari lo faccio io off camera ragazzi non è assolutamente un grande problema allora io adesso volevo iniziare però facciamo venire il giorno a demolire tutta sta roba qua e gli vado a fare le casette a sto punto visto che le possiamo fare direi di fare assolutamente le casette che ci piacciono ci piacciono decisamente più quindi facciamo così allora iniziamo a prendere tutta sta roba e fai demolisci ok così almeno mi demolite tutta sta roba qua perfetto fatemelo abbastanza in fretta grazie vediamo se riescono a farmi il tutto tanto sono curioso qua dei campi ma mi sa che stanno ancora facendo i semi mi stanno ancora ancora facendo i semi se purtroppo mi stanno ancora facendo i semi ma è qua non può andare qualcuno scusate chi è che ho assegnato al farming allora farming o lui e basta in realtà giusto priority qua non mi da nulla e sul priority della farming farmland a ok qua posso selezionare i campi per andare a dargli la priorità ma lui cosa mi sta a perché lui mi fa anche i semi ok però aspetta fai così e non può andare watering harvesting ma non è che non li posso fare perché non ho la zappa perché devo sbloccare la zappa prima di farli vabbè per intanto facciamo i semi ragazzi poi eventualmente vediamo allora anche tutta sta roba qua la demoliamo perfetto perché vorrei per l'appunto fargli la casetta che impiegano un fracco di tempo a demolire sta roba vediamo se ce la facciamo vabbè che sono un pirle letti li potevo anche lasciare effettivamente perché qua ho già la struttura quindi aspetta un attimo cancella la demolizione me lo ricostruisci e facciamo a questo punto così gli mettiamo qua i muri ok si gli mettiamo i muri qua gli mettiamo ma le finestre poi come come gliele metto a direttamente così a ok ok quindi le posso mettere semplicemente così perfetto ma questi li posso ruotare fatemi capire un attimo perché vediamo se me le dà già dritte a ok no vabbè me le dà già dritte perfetto qua gli metto i muri no però qua c'è il letto lo devo spostare per forza quindi niente no questo demolisci meno un attimo sì e poi qua dentro gli metto le casette dai facciamo cioè le casette buonanotte gli metto i letti quindi fammi fa una cosa allora aspetta il letto dove cacchio sta qua quindi gli posso mettere tranquillamente un letto vabbè tanto è grande uguale non cambia nulla quindi gliene posso mettere uno qua però però lo vorrei costruire dritto qua mi sa che devo aspettare il giorno se no non vedo una mazza di nulla però una cosa la porta ad or ok a quindi la porta di legno ma bellissima ma è bellissima questa cosa ragazzi è spettacolare ok qua gli metto i due muri così perfetto mentre qua gli posso mettere i muri così gli metto magari due finestrelle una qua e una qua e gli metto altre due finestrelle così perfetto dopodiché il tetto mi sa mi sa che per il tetto devo aspettare che costruiscano prima la struttura o idea credo di sì e adesso facciamogli prima scoprire la la struttura ok va bene va bene dai facciamo così almeno riusciamo a combinar qualcosa quindi qua avranno il loro letto però ecco il letto ridammo un attimo perché volevo vedere di costruirlo o perfetto così almeno vedo effettivamente come è fatto e quell'altro glielo metto qua ok così almeno hanno finalmente ragazzi una casa o finalmente hanno una casa come dio comanda quindi vabbè posso mettergli tranquillamente tutti i muri e poi li costruisco dopo semplicemente le finestre gliele metto sopra tanto me le fa fare anche così quindi quindi non è assolutamente un problema qua magari gliene mettiamo due qua gliene mettiamo due perfetto ok sì come la costruite poi posso metterli due qua gli mettiamo la porta in mezzo questa me la puoi non so come sia credo sia così vabbè la porta gliela metto qua e i due muri invece normali gliene andiamo a chiudere così ok boh perfetto vai ottimo vabbè sono un po piccole effettivamente sì sono un po strettine però quantomeno c'hanno una casa un po claustrofobica effettivamente però però vabbè meglio che che la tenda di prima insomma quindi direi che ci sta assolutamente ci sta assolutamente per adesso questi letti glieli lascio intanto che costruiscono da quella parte lì ok no qua non mi hanno ancora seminato nulla ma perché secondo me a questo punto mi serve credo la la zappa per forza di cose secondo me però vediamo eventualmente vediamo perché la zappa quando la sblocchiamo allora la zappa c'è range eccola qua sì la zappa la sblocchiamo subito dopo ok perché non credo che possa andare a farmi a questo punto la la farm che tra l'altro lui credo che sia anche quello si è 56 beh oddio anche questo è bravo nella farm anche questo qua effettivamente bravo nella farm mettiamogli due anche nella farm perché anche questo è molto bravo 11 2 cacchio 75 questa brava anche questa qua farming 77 sti cavoli questa cosa fa solo la caccia allora farmi anche la farming assolutamente fammi anche la farming vediamo un attimo di loro chi riuscirà ad andare appunto a farmi sti campi però credo che appunto io debba semplicemente avere la zappa immagino ok qua mi stanno facendo finalmente i muri e credo che a questo punto io possa andare a fargli si vedete quando andiamo a costruire posso fargli sopra il tetto ma che cacchio di figata che cacchio di figata ragazzi sto gioco come detto più ci gioco e più mi ha preso più mi piace perché vi dà almeno a me personalmente da veramente tanta ma tanta soddisfazione diciamo a sbloccare le varie ricerche a vedere la civiltà che effettivamente cresce c'è cresciuto anche il porcello qua il cinghialo quindi in teoria queste femmina queste maschio penso e spero che inizino anche un po a copulare spero perché insomma almeno non riusciamo a fare dei bei cinghialotti da tenere come come difesa non sarebbe male non sarebbe assolutamente male potrei poi tirar su dei muri come difesa però al momento al momento effettivamente ci arriva solo diciamo un un nemico per volta quindi francamente non ho così necessità di fare delle difese quindi non è un grande problema per cui per il momento va benissimo così sinceramente allora vediamo qua il tetto che me l'ha fatto devono solo andarlo a costruire posso farlo a sto punto anche di qua perché tanto benissimo qualche muro l'hanno costruito quindi è perfetto e abbiamo la nostra casettina finalmente di terra insomma tipo terracotta e fango pressato fango siccato e va bene però sono sicuramente meglio rispetto a queste capanne qua credo che gli possano dare anche un po di felicità aggiuntiva quindi tanto di guadagnato tanto di guadagnato allora mi manca un punto per i nostri per un mentore quindi a questo punto farei una cosa di questo tipo allora dove che sta non mi ricordo non mi ricordo eccolo qua allora metterei una cosa di storia magari qua e lo mettiamo qua vicino dai non è non è un grandissimo problema lo posso anche mettere qua gli posso andare a mettere la pietra semplicemente sopra così almeno così almeno poi collegato che si è alzato il vento ma anche qua non è un grande problema qua già ci dormono nella casetta per quanto non ha il tetto ma a breve dovremmo riuscire a farlo qua mi dice che ci sono le strutture ovviamente ci sono tutti questi muri senza un tetto perché vabbè quello glielo devono ancora fare quindi un attimo di pazienza che muovano a farlo penso spero mi auguro mi auguro bambini stanno tutti bene comunque quindi va benissimo così adesso arriva l'inverno quindi se mi vanno a costruire il tetto magari mi fate anche una santa cor a questo me l'ha fatto no beh bellissime ma guardate che cacchio di figata ma guardate che cacchio di figata ste casette come è detto sono minuscole quindi ok però tanta tanta roba allora questo lo farei sull'anting che mi sa che non ho messo nessuno chi è che era senza nora ok quindi questo qua mettiamo nora tac e gli diamo gli diamo magari lanting non mi ricordo se ne ho già qualcuno con l'hunting ma mi pare di no crafting a crafting tra l'altro quando non c'è nessuno come crafting ridami questo grazie questo poi magari lo devo spostare che un po attaccato a sta capanna però vabbè a 00 però loro non hanno nessun apprendista diciamo così ok comunque queste sulla pesca questa e sulle risorse crafting erbe e hunting direi che ci sta assolutamente perfetto così non abbiamo più nessun avviso io impazzisco per ste casette ragazzi mi piacciono mi piacciono tantissimo mi piacciono veramente veramente un casino mi piacciono veramente veramente un casino quindi direi a sto punto che possiamo anche selezionare tutta sta roba qua e demolirla e selezionare sta roba qua e demolirla ok così almeno li rimetto da zero e via tanto penso lo faranno nella prossima giornata non credo che quest'oggi riescano a fare più nulla quindi ok e qua sbloccare la zappa sbloccare la zappa è dura sbloccare la zappa è dura mo speriamo di farlo qua mi dice quanti semi ho vediamo un attimo si allora abbiamo 24 di semi quindi ok però ancora non me li fa non me li fa seminare secondo me perché mi manca la zappa vabbè tralasciando il fatto che adesso siamo in inverno quindi anche volendo anche volendo non potrebbero comunque seminare però credo che serva necessariamente la zappa comunque per seminare quindi ok cacchio questa è piccola piccola aspetta che l'allarghiamo un po di qua perché sennò questa veramente non ci stanno non mi ci sta neanche le vabbè viene piccolina come l'altra comunque non è un grande problema ma se qua ti chiudo ok la porta te la posso fare così ti metto qualche finestra perché sennò altro che la claustrofobia quindi ne mettiamo due qua ok ne mettiamo due qua ok e poi te ne posso mettere anche una qua ne mettiamo anche una qua dai e direi che va benissimo il letto mi ci starà adesso bella domanda si proprio al pelo è questa è veramente veramente piccola però come detto come detto fa niente giusto per dargli comunque un'alternativa alla capanna stanno vicini vicini e va bene così va assolutamente bene così ok ok vabbè qua è sfalsata la porta purtroppo perché è un pelo più piccola parte che la potevo fare fermati fermati aspetta l'allargo di uno scusami io sono anche un pirla perché effettivamente mi conviene allargarla di uno tanto qua c'ho lo spazio così lascio uno spazio tra una e l'altra e anche questa tanto questa mi sa che posso farla un pelino più piccolo se non mi sposto in là dai non è non è un gran problema quindi questa me la togli un attimo questa me la togli un attimo questa me la togli un attimo ok e facciamo a sto punto così allora la porta così almeno mi sta in mezzo e mi piace di più che a me le cose sfalsate sapete non mi piacciono così vengono due chiuse una finestra porta finestra e due chiuse ok così così decisamente meglio e poi mi sposto magari un po tanto questa è grande quindi questa la posso anche fare un pelino più piccola ma in linea di massima ci dovremmo stare dai posso anche fargli comunque una casa in meno non è non è un gran problema perché io l'ho fatta più piccola anche di qua questa bella domanda perché sono un pirla io mi dovevo allargare mi dovevo allargare di uno anche di qua infatti anche perché sennò è veramente troppo stretta cioè davvero sti poveraci fanno una vita d'inferno qua dentro ok dai così almeno ci siamo e posso metterli eventualmente anche qua dietro magari giusto una finestra nel mezzo qua ne ho messe due però vabbè quale posso questa la posso coprire con un muro magari vediamo se me la ricoprono vediamo un po ok dai così va decisamente meglio così va decisamente meglio qua gli abbiamo messo comunque i due letti aspetta questa però questo letto a sto punto me lo sposti e magari vabbè facciamogli spostare anche quell'altro così lo metto un attimino meglio ok quindi gli mettiamo un paio di letti ecco se mi toglio la scritta ci vedo qualcosa grazie uno di qua e uno glielo mettiamo di là buona perfetto dai così anche qua almeno la loro casettina ce l'hanno la loro casettina ce l'hanno come detto vederle poi con i tetti è veramente veramente una figata assurda qua il magazzino lo posso lasciare così perché comunque questi non stanno male gli ambienti di lavoro secondo me anche se hanno solo lo shelter van più che bene più che altro le casette ovviamente glielo volevo fare un attimino più decenti un attimino più decenti va bene ragazzi allora io direi però che posso concludere qua questo nuovo video dedicato a primitive society simulator come detto mi interessava tantissimo far vedere appunto le casette queste qua veramente veramente belle adesso cercherò magari di lavorare un po' off camera per sbloccare la zappa in modo da vedere effettivamente l'agricoltura perché qua l'abbiamo si sbloccata abbiamo fatto i primi campi ma ancora non mi vanno a seminare perché credo credo che appunto gli manchi effettivamente la la zappa perché vedo che comunque non mi può seminare nessun campo di conseguenza penso che vada proprio necessariamente qua i semi ad esempio li ho per per le berri però vedete che è tutto bloccato perché per l'appunto devo secondo me necessariamente sbloccare la zampa la zampa si buona notte la zappa anche perché i campi giustamente vanno prima zappati poi va seminato insomma con la zappa si fa un po' il discorso dell'aratro tra l'altro come ultima cosa però io ho visto che avevamo anche dove che era no questo era per i vestiti aspetta perché volevo anche posizionare il carretto eccolo qua con il parking spot quindi quindi anche qua figata me lo stavo scordando me lo stavo assolutamente scordando qua davanti al magazzino secondo me potrebbero star bene un paio di anche tre magari parking pod con poi questi qua sinceramente secondo me potrebbero starci assolutamente bene ne facciamo due quattro sei così vediamo anche questi perché in teoria adesso con questi dovrebbero girare raccogliermi le risorse direttamente con questi qua e fare ovviamente molto molto prima perché se li trascinano in giro e quindi riescono chiaramente a portare molte più risorse quando vanno appunto in giro a raccoglierle questo secondo me è decisamente decisamente meglio adesso aspettiamo che intanto già che siamo qua facciamo quest'ultima cosa così almeno ormai il tetto qua me l'hanno posizionato quindi glielo facciamo per l'appunto costruire così almeno anche questa casettina qua il tetto e vediamo per l'appunto la prima il primo parcheggio ok qua non devo fare nulla è solo per l'appunto un semplice parcheggio adesso mi hanno costruito finalmente questo sbloccato anche appunto una cimet vedete che qua figata possiamo decidere per ogni carretto cosa andare a storarci sopra quindi il materiale per fare crafting la costruzione la raccolta risorse la cura degli animali insomma tutte queste cose qua possiamo tranquillamente utilizzarlo e questo tra l'altro ha una capacità di 70 quindi tanta tanta roba assolutamente guarda guarda no vabbè se lo portai in giro guardate che cacchio di figata che ma quanto bello è sto gioco cioè anche da sti particolari che ripeto sembran cavolate però guardate che veramente tanta roba e credo che poi la stessa cosa potremmo fare anche con gli animali nel senso che come abbiamo visto avremmo anche a disposizione buoi eccetera che immagino mi possano trascinare per l'appunto questi carretti non so se possa farlo addirittura il cinghiale cioè se io assegno il cinghiale qualcuno se questo qualcuno gli va ad attaccare sul carretto questo non lo so sinceramente questo non lo so però però anche questo sarebbe eventualmente una una bella prova da fare perché sinceramente non ne ho idea qua non mi dice nulla status re name eccetera però potrei provare tanto basta segnare il cinghiale a un costruttore e andiamo subito a vedere se effettivamente il cinghiale può dargli una mano magari trasportando per l'appunto il carretto sarebbe veramente un'ulteriore figata va bene ragazzi quindi detto questo io direi che posso fermarmi qui con questo nuovo video io come sempre mi invito a sostenere questa serie lasciando un sacco sacco di like condividete commentate iscrivete canale se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube oltre stiamo grazie sotto di ogni mio video vedo questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo nei prossimi play ciao belli